Abbiamo finalmente disegnato il Joker Allora, tanto facile non è Però è una cosa che si può fare Con le matite colorate puoi fare veramente di tutto Basta avercene un po' voglia E poi fondamentalmente su trucco da clown funziona Bello da vedere, insomma Continuerò a preferire Hit Ledger però sti cazzi Bravo anche il piccolo Phoenix Piccolo pazzo che spara Se anche voi disegnate venite su Discord che il link è in bio Ciao